Perché sorrideva Odifreddi? Perché poi il problema del 25 aprile si ripropone ogni volta, si ripropone sempre, ma ogni volta che soprattutto la destra è al governo. Ma no, sorridevo perché personalmente il 25 aprile lo considero una ritualità e io sono un po' allergico a tutte le ritualità, quindi non mi ci trovo molto a mio agio, ma solo per quel motivo. Anche perché se io fossi un carcerato, per esempio, e mi trasferiscono da una prigione all'altra, non direi che sono stato liberato. Ora, a noi non piace pensare che in realtà la liberazione, che appunto noi festeggiamo il 25 aprile, ma la resa ufficiale fu firmata il 29 di aprile, ma fu firmata di fronte al generale Alexander, con la presenza del rappresentante dell'Unione Sovietica. Siamo passati, forse è un po' forte da dire, ma siamo passati da un gioco all'altro. Noi siamo stati occupati dagli americani. Gli americani sono rimasti in Italia per anni, il trattato di pace è stato firmato nel 1947. Oggi, oggi in Italia, ci sono 15.000 soldati americani, in Germania ce ne sono 35.000 e in Giappone ce ne sono 55.000, in ordine di preoccupazione. Gli americani hanno occupato l'Europa. Noi siamo passati da un'alleanza a un'altra e continuiamo ad esserlo. Siamo membri della Nato, per esempio. Non abbiamo voce in capitolo. La nostra Costituzione ci impedisce, l'articolo 70, di fare referendum, per esempio, abrogativi sui trattati esteri. E quindi forse dovremmo ripensare un pochetti. Certo, io non dico che, attenzione, che i nazisti e gli americani e gli statunitensi sono la stessa cosa, però sicuramente facciamo parte di un'alleanza e quelli che hanno una certa età, qui siamo tutti così, si ricorderanno ad esempio negli anni 70, quando il Partito Comunista era lì per superare la democrazia cristiana e quindi in un certo senso magari... Il più grande Partito Comunista d'Occidente. Esatto, e che Kissinger disse chiaramente, dice, l'Italia non si sogni di essere libera e di poter fare i governi che vuole. Noi siamo stati tranquilli perché i comunisti non sono mai arrivati al governo, ma se lo fossero stati probabilmente avrebbero fatto la fine di quello che è successo in Iran, quando fu buttato giù lo Shah, in Guatemala, in Cile e così via. Apparteniamo a un'alleanza, lo facciamo volenti o nolenti, però proprio liberi, io direi che non lo siamo, per questo che dicevo forse la liberazione è una bella illusione. È un po' come quando a Gandhi chiesero che cosa pensa lei della civiltà occidentale e lui rispose che sarebbe una bella idea. E anche noi, cosa pensano della liberazione? Sarebbe una bella idea se fossimo liberi, ma non lo siamo. Sentiamo Carlo Panella a proposito. Posso aggiungere che non possiamo fare il referendum neanche sul concordato? Certo, quello è un trattato con lo Stato internazionale. Certo. Quello sarebbe interessato. Quella è una cosa del fascismo che non è caduta tra l'altro, perché il concordato fu messo esattamente come era dentro la Costituzione, fu poi riveduto da Craxi negli anni Ottanta. Però ci sono tante cose che dovremmo ripensare e le ritualità ci impediscono forse di farlo, perché si celebrano in maniera più convenzionale. Carlo Panella, che dobbiamo ripensare dal tuo punto di vista? Ma non è facile fare chiarezza. Ad esempio è vero che noi siamo stati occupati politicamente dagli americani, ma per fortuna che siamo stati occupati dagli americani, perché se no l'Unione Sovietica avrebbe invaso ben prima del 2022 la Russia, l'Europa, così come ha fatto con i paesi dell'Est. C'è molta difficoltà di avere chiarezza sul 25%. Volevo aggiungere qualcosa, professor Di Freddi, ho visto su questa questione. Io sono molto d'accordo con lui, a me quello che interessa oggi non è quello che è successo cent'anni fa, è quello che succede oggi ancora. E così come si può dire che il fascismo ha fatto anche cose buone, bisogna anche avere coraggio di dire, mentre invece mi sembra che abbiamo un po' una visione idilliaca di cosa sono gli Stati Uniti, che gli Stati Uniti hanno fatto anche tante cose cattive. Faccio degli esempi perché a volte, nemmeno io le sapevo fin quando non sono andato a scavare. Per esempio le leggi razziali che Hitler ha introdotto nel 1933 e noi abbiamo copiato nel 1938, le leggi razziali erano in vigore negli Stati Uniti, nella maggioranza degli Stati dell'Unione, per la prima parte del Novecento, sono state fatte da un americano che si chiamava Lofling, che poi prese la laurea d'onore, ma Heidelberg quando arrivò il nazismo, e sono continuate tra l'altro anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Noi non sappiamo che in America sono stati castrati per decreto giudiziale 50.000 omosessuali dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Cioè questo sono anche gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti per esempio... Anche in Svezia. Anche nella socialdemocratica Svezia. Gli Stati Uniti ad esempio, noi siamo alleati e pensiamo che siano il bene che ci difende dal male, ma c'è un rapporto del congresso americano di due o tre anni fa che è agghiacciante, perché ha fatto un elenco, fatto dal congresso americano, un elenco degli interventi militari che sono stati fatti dagli Stati Uniti dagli inizi della Repubblica, nel 1776 fino a 8, sono circa 500 quelli che loro hanno elencato, di cui 250 sono stati fatti dopo la caduta dell'Unione Sovietica, negli ultimi 30 anni. Cioè non c'è un anno dall'80 fino a oggi in cui gli Stati Uniti non abbiano fatto interventi militari all'estero. E l'80 è soltanto perché era la presidenza Carter che per quattro anni è miso una moratoria sugli interventi, perché altrimenti si risalirebbe fino al 45. Oggi gli Stati Uniti hanno nel mondo 800 basi, la Russia, la Francia e l'Inghilterra insieme ne hanno 30. Cioè gli Stati Uniti sono l'elefante che noi non guardiamo e crediamo che siano i difensori della libertà, ma sono un impero e noi facciamo parte dell'impero.